Noto Halloween sicuro, più di 60.000 prodotti segrestrati per la Notte delle Streghe. Nell'ambito dei controlli a contrasto dei fenomeni di contraffazione e alterazione della merce in vendita, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa, guidata dal colonnello Lucio Vaccaro, è segrestrato oltre 60.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza pronti per essere venduti in occasione di Halloween. Le fiamme gialle della compagnia di noto, dirette dal capitano Maria Grazia Ponziano, a seguito di mirati sovrlochi, hanno individuato un esercizio commerciale che dava agli avventori occasionali la possibilità di acquistare gadget e accessori per prepararsi all'imminente Notte delle Streghe. Tuttavia, ad un più attento esame del materiale, i finanziari notavano la totale difformità dei prodotti da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la totale mancanza delle informazioni minime, per quali i dati relativi al produttore e all'importatore, il paese d'origine e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione. Tale informazione, obbligatoria per legge, devono oltretutto essere presenti sulle confezioni in maniera chiara, leggibile e in lingua italiana. La merce irregolare per un valore di oltre 30.000 euro è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell'esercizio commerciale, oltre ad essere stato segnalato alla competente Camera di Commercio, rischia una sanzione prevista per un minimo di 250 o un massimo di 25.000 euro. Tale attività è l'effetto del costante impegno messo in atto su tutto il territorio di competenza dal Comando Provinciale di Siracusa per contrastare in modo tangibile ogni forma di lecito nello specifico settore e finalizzata alla tutela di un bene primario, quale è la salute del consumatore finale. L'impegno profuso testimonia ancora una volta il ruolo di Polizia Sociale svolto dalla Guardia di Finanza, oltre che di Polizia Economico-Finanziaria a tutela dei contribuenti che rispettano le regole commerciali.